Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale di Catronodellismo Dinamico, io sono Issam e oggi parleremo delle differenze tra gli elicotteri con trasmissione cardanica rispetto a quelli con trasmissione a cinghia. Premetto che la storia degli elicotteri è iniziata con la trasmissione a cinghia, infatti i miei primi elicotteri nel lontano 2007 erano tutti a trasmissione a cinghia. Dopodiché è uscita la moda della trasmissione cardanica nel 2010-2012 se non ricordo male, che era ai tempi una cosa wow, quindi una cosa all'avanguardia, migliore rispetto alla trasmissione a cinghia. Dopodiché da quest'anno anche la Line ha iniziato a produrre elicotteri con trasmissione a cinghia. Allora qual è la cosa migliore e perché soprattutto siamo passati a una e all'altra? Ovviamente questo è causato dai pro e i contro ma anche dall'avanzamento della tecnologia nella produzione dei materiali. Certamente dal punto di vista meccanico, di precisione e diciamo per piloti avanzati che vogliono pilotare 3D molto spinto, sicuramente la trasmissione cardanica non si può paragonare con la trasmissione a cinghia. È molto superiore. Infatti proprio per questo nel 2010 siamo passati alla trasmissione cardanica. Ma ci siamo passati per un problema preciso perché la cinghia o le cinghie ai tempi producevano un'elettricità elettrostatica che causava problemi all'elettronica, a vari giroscopi e anche i primi sistemi flybarless. Infatti le cinghie sfregando mentre stanno passando contro i vari materiali producevano una quantità non indifferente di corrente elettrostatica che interferiva con i vari sistemi, con conseguenze tragiche, quindi un elicottero che non risponde più ai comandi e quindi bye bye elicottero. Ed è uno dei motivi principali per il quale i produttori hanno optato per una tecnologia migliore, non solamente dal punto di vista della miglioria ma anche perché avevano un problema. Non solo la trasmissione a cinghia richiede più lubrificazione e più manutenzione e le cinghie che si producevano 20 anni fa non sono le stesse cinghie che si producono in questi anni. Quindi si deterioravano più in fretta e bisognava sempre controllarli perché a volte si rompevano, anche lì con conseguenze tragiche. In più la cinghia rispetto alla trasmissione cardanica produce più attrito, quindi è meno fluida, quindi consuma più corrente elettrica. Infatti se hai due elicotteri, uno con trasmissione cardanica e un altro con trasmissione a cinghia, prova a far girare a mano il rotore principale alla stessa velocità e vedrai che sarà molto più facile far girare il rotore con trasmissione cardanica rispetto a quello a cinghia. Non solo quello a cinghia si fermerà molto prima rispetto a quello a trasmissione cardanica, quindi anche l'autorotazione in questo caso è migliore. Non solo adesso ti sto tirando tutti i difetti della cinghia, però ci sono anche dei benefici. La cinghia una volta che produci un'accelerazione si tira da una parte e dall'altra parte si smolla. Questo smollamento causa delle frustate contro il tubo di coda nella quale scorre questa cinghia, il che aumenta le vibrazioni e naturalmente aumentando le vibrazioni dovrai abbassare il guadagno della coda. Quindi abbiamo anche più vibrazioni e meno precisione della coda. D'altra parte abbiamo due vantaggi non indifferenti. Il primo vantaggio è che se dovessi toccare con la coda, quindi fermare il rotore di coda per qualche motivo, al massimo salta la cinghia e non succede nulla. Mentre nella trasmissione cardanica se dovesse fermarsi la coda, il rapporto dei denti fa sì che di sicuro un dente salta, altrimenti l'albero che scorre dentro la coda, che fa girare la coda, continua a ruotare finché non spacca la coda. Questo sicuramente se cerchi su YouTube troverai qualche video dove vedi l'elicottero esplode praticamente la coda in volo, perché magari è saltato un dente anche dall'usura, può capitare, o addirittura è entrato un sassolino all'interno dei denti e quindi ha spezzato il dente e in volo è saltato il tutto. Cosa che non capita con la trasmissione a cinghia, specialmente con le cinghie in materiale composite o con dentro dei cavi magari metallici che rafforzano la cinghia, al massimo salta il dente, anche se c'è un dente che manca comunque la cinghia continua ad andare senza problemi. Quindi se volessimo sintetizzare abbiamo la trasmissione cardanica molto più precisa, fluida e anche energeticamente più efficiente, ma il volo anche più preciso, d'altra parte la cinghia perdona tantissimo, specialmente con le nuove cinghie che richiedono anche meno manutenzione e anche con la nuova tecnologia anti-slap, con delle carrucole a molla che regolano la tensione ed evitano questo effetto che abbiamo detto di frusta contro la coda. Non solo, abbiamo l'elettronica anche che è migliorata, che non soffre più per la corrente elettrostatica e anche le cinghie che producono meno corrente elettrostatica rispetto a quelle prodotte dieci anni fa. E se mi chiedessi Issam quale preferisci? Io sinceramente preferisco quello a trasmissione cardanica, anche se devo essere sincero anche per quello, semplicemente trasportando in macchina il T-Rex 800, ho toccato la coda mentre le pale del rotore principale erano chiuse, quindi bloccate e ho rotto il meccanismo, quindi ho dovuto rismontare tutto, cambiare il pezzo e ritarare il tutto eccetera eccetera, cosa che non mi è mai capitata nonostante abbia trattato male tutti i miei elicotteri a cinghia. Spero di esserti stato utile con questo video, se hai delle domande lasciali giù nel spazio commenti, nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima!